Salvatore Cosentino Salvatore Cosentino Schiavizzati dal modello di lavoro applicato attualmente. Modello che costringe numerosi di noi anche ad emigrare, a fuggire da queste zone per trovare delle situazioni migliori. Modello invece che noi pensiamo vada combattuto, vada ribaltato. Il grosso tema economico a cui dobbiamo rispondere tutti quanti, che si infrange e collide anche col grosso tema, quello dell'ambiente. Trovare una diversa collocazione, ma trovare soprattutto un diverso modello di sviluppo che passa per queste aree negate, passa per queste aree alle spalle, ancora di più legate al mare, è un grosso tema che viene portato avanti soprattutto nelle piazze. Decine di migliaia sono stati gli abitanti di questa città che hanno deciso di scendere e di portare avanti dei momenti di lotta che passano sia dall'entrata in queste aree sia anche dalle vertenze sul lavoro. E' un tema che circola in tutto il sud Italia, tocca le diverse città di questo sud Italia, ma che tocca anche i quartieri in cui abbiamo deciso di candidarci e di partecipare a questa sfida elettorale. Pianura legata a un grosso tema rispetto alla questione della discarica e dei rifiuti che vengono interrati e sono stati interrati al di sotto di quel quartiere. Chiaiano col problema dell'inceneritore e il grosso tema delle periferie legato anche a Soccavo. Un diverso modello di sviluppo, quello che noi stiamo cercando e che portiamo avanti non solo in questa sfida elettorale che non coinvolge solo me in prima persona, ma i tanti attivisti che si sono mosse in queste zone, ma anche il grosso tema di attaccare i politici lì dove hanno sempre pensato di poter stare a sicuro, all'interno dei loro palazzi chiusi. Una battaglia quindi che deve essere portata naturalmente su due piani, quello di movimento e quello delle votazioni. Perciò invitiamo a partecipare e a votare il 4 marzo, ma allo stesso modo invitiamo a partecipare e a costruire diversi momenti di mobilitazione e di lotta, capaci quindi di assediare non solo i palazzi del potere, ma anche di vivere le strade e i quartieri in cui siamo vissuti e cresciuti. Grazie a tutti!